Musica 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 Ok, ciao a tutti ragazzi, benvenuti per questo nuovo gameplay di Assassin's Creed Revelation qui con il vostro Vale 93B Allora noi siamo... siamo qua E oh, ecco dobbiamo proseguire Buio Darkness Petros, assicurati che abbiamo abbastanza fiaccole per lo scavo Sono stufo di brancolare nel buio Ne ti pareva? Ci penso io a farti brancolare nella luce Aspetta Aspetta Quello lì... Muori Silenzio Non volete mica farmi scoprire vero? Ok Un altro mercenari No, 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 non è come sembra Non vedermi Non vedermi Non vedermi Bravissimo Oh no Oh no Oh no, ce n'è un altro lì Oh no, ce n'è un altro lì o no 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 oh si sono un grande sto risaurendo tutti così di veleno però ne vale la pena allora c'è l'altro lì se non sbaglio oh lì no chi si è accorto di me ah quello là no questo qua aiuto mi fa male e vaffanculo stronzo vaffanculo stava andando tutto così bene ero così felice vediamo cosa ha quest'altra datemi i dardi avvelenati che mi servono ecco adesso li ho tutti allora cosa abbiamo qua polvere piriche inglese ok qui ops c'è qualcosa è pieno di polvere qua dentro pieno di polvere è fosforo oh qui ce n'è un altro non l'avevo visto ah grande vediamo cosa hai tu apparentemente nulla ottimo tu barbone pezzente cosa hai i soliti quattro spiccioli che schifo apriamo anche qui oh involucro da impatto al massimo quindi ho tutti gli involucri da impatto possibili allora lì c'è un altro tesoro ma vediamo un po' yes mio spero che non mi veda non sono io è una falsa immagine di me aspetta ma da qua posso mirarlo? no ok oh devo andare di qua eccolo no no perché appena mi ha visto un secondino questo ha già sguainato la spada ma non ho fatto nulla io oh eccolo il tizio con l'archibugio babam non penso che mi veda da qua quell'altro quindi posso depredarlo con molta calma ah si sale ancora oh tesoro mio fosforo al massimo ok siamo ai oh madonna mia non li vedo questi stronzi ogni volta mi fanno questi brutti giochi e perché state giocando a minecraft qua che state piccolando in giro tra l'altro non posso nemmeno prendere sì che posso oh mio dio minecraft oh sì minecraft in assassin creed preparatevi per qualcosa di epico il mashup tra minecraft e assassin creed no 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 ops vai va ah deve far male oh oh mio oh ha avuto una piccolata allora vediamo adesso se riesco no 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 allora oh sento il suono di qualche oh eccoci madonna mia quanti ah no non è un tesoro questo cortina fumogena ma la cortina fumogena cerca il vabbè so già cosa serve ok adesso vediamo di uccidere quel bastardo con stile con di ciao al mio amico di ciao al mio amico oh si è stato meraviglioso allora immagino che si si ok ok facciamo questa strada e uno due tre olè allora prendiamo anche ciò che ci serve da questo tipo io devo scendere oh ditemi che non mi ammazzo nel tentativo di ah si era proprio così vai 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 verso l'infinito e oltre ditemi che è finito questo dungeon maledotto che è successo c'è stato qualche problema ultimamente ragazzi mh fosforo al massimo ma perché mi date sempre il fosforo se sapete che ce l'ho già polvere epirica inglese e qui involucro l'impatto al massimo ovviamente ok ahah oh devo andare là spero di riuscire dai là perfetto lascio risparmio quella guardia e ci siamo c'è qualcuno qui sotto con noi ah si occhi aperti e mani pronte e mani in alto perché arriva l'ispettore Ezio ok tu vai ole il primo è andato oh no oh no oh no oh no 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 non vedete nulla io mi metto qua giù non mi vede nessuno una volta non siamo stati dovremmo controllare se addosso vede l'aria sono un figo qualcuno ha visto l'omicidio? no allora vediamo intanto di utilizzare questo tempo in maniera aha è quello dunque uccide il capitano e recupera la chiave della persona eh? ci sono ci sono ci sono oh sono troppo forte ah ci sta fatevi avanti ma scalzoni farabutti oh aiuto e dai con la lama corta è tutto più difficile dove te sto? oh aha e non vale così oh ole levati dalle palle se te ne devi andare stronzo ok è fatta no forse no e tu che armavi? oh no ha una lanciona aiuto ah e no ero così pronto di ciao al mio amico zap ok lasciamo la lancia e possiamo proseguire ah buio vai no usa l'occhio dell'acquila per che cosa dove oh c'è qualcosa lì sì andiamo a vedere eh che cosa cos'è cos'è questa cosa qua vabbè oh finalmente un po' di dobloni che cosa dovrei ah ci sono tipo delle pareti qua no 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 questa qua che è al centro scommetto che è questa e dai Ezio ma che cazzo mi conviene lo stanno individuato oh finalmente andiamo il mio compito è finito è arrivato il momento di riscattare la chiave di Altai oh ma quanto non puliscono qua c'è un buio oh luce bene 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 guarda un po' cosa abbiamo qui nulla per me che cos'è c'è anche un un coso strano ah no non c'è più eh sì c'è ancora lì a fianco no non c'è più ah mappa era una seconda mappa va bene quindi dovrei aver terminato adesso ok 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 vediamo giusto la scena in cui Ezio sbuca da un un foro grande quanto la metà di lui dai Ezio i giannizzeri i giannizzeri che sono fortissimi più che altro vorrebbero esserlo abbiamo terminato la prima quest per le chiavi di Altai ecco Sofia oh salve Ezio eccovi finalmente chi avete trovato? no niente mille cosa che potrebbe interessarvi mio dio che meraviglia e questa è la mia bottega osservate i margini che strani simboli e questi sono titoli di libri libri rari alcuni di questi non si vedono da più di mille anni oh meraviglioso non ho nascosto questi libri per la città questa mappa dovrebbe dirci dove iniziate a intrigarmi vagamente ah vi percorrerò altre mappe allora a quanto vedo devo prima trovare questi tre libri potrebbero contenere indizi per localizzare gli altri molto curiosa ah un cd un altro è stata trovata sotto il palazzo top capi ma c'è ancora tempo per raggiungere le altre trovata da chi? uomini che non leggono Sofia potete decifrare la mappa e aiutarmi a trovare quei libri ecco è arrivata al dunque me li presterete quando avrete finito troveremo un accomodamento no Ezio inutile non funziona come quando eri giovane ah povero old Ezio vabbè ciao Sofia ho detto ciao ho detto me ne vado piangendo va bene ragazzi quindi finisce qua questo gameplay di Assassin oh no aspetta Yusuf saluto non tocco ah vaffanculo hai trovato quello che stavi cercando sì credo di sì questa è una delle cinque chiavi di Altaire uno strano manufatto benissimo non ho mai visto niente di simile dovresti tenerla al sicuro beh l'ho notato dall'espressione intelligente che non aveva mai visto nulla che cosa ti porta qui? oggi mi sto coordinando con i nostri alleati ah ah i ladri del bazar i mercenari vicino all'arsenale e le atingane nel distretto di Costantino sì le cortigiane che si chiamano atingane lascia che ci parli io con le atingane ho avuto qualche contatto con loro in passato questo mi leverebbe un peso eh se vai di fretta puoi spostarti attraverso le nostre gallerie l'aria là sotto è un tantino stantino ma i ratti non sono più grossi di cani oh che schifo grazie e non toccarmi più maledetto va bene ora finisce questo gameplay di Assassin's Creed Revelation noi ci vediamo per il prossimo qui con il vostro vale 93 ciao